Avere un contratto a tempo indeterminato non è più una sicurezza, non è più una garanzia, lo so per molti genitori che lo dicono ai propri figli, non è più così, per tutta una serie di motivi. Attualmente le aziende, tac, vi possono sbattere fuori quando li pare piace per una qualsiasi motivazione. Ok, lo capite che per riuscire nella vita dovete incominciare a mettere valore al mercato, ma soprattutto dovete costruire qualcosa, dovete creare qualcosa che porti valore o risolvi dei problemi alle persone.